Cari telespettatori, buonasera, siamo di nuovo in diretta sul canale 17 di FanoTV per cominciare una nuova puntata di Primo Cittadino con un sindaco che è ospite per la prima volta nei nostri studi. Do il benvenuto a Emanuele Feduzzi, sindaco di Fermignano. Buonasera sindaco. Buonasera Simona e buonasera a tutti i telespettatori. Ricordo che possono inviarci messaggi, possono comunicare direttamente con lei telefonando in diretta allo 0721 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio di testo anche con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco siamo pronti, cominciamo questa nuova puntata. Lei è stato eletto sindaco nel 2016, il comune conta all'incirca 8500 abitanti e di recente ha ricevuto anche un bel premio, un riconoscimento per il comune riciclone che addirittura tra i 5000 e i 15000 abitanti è il migliore anche delle marche. Anche a livello italiano fra l'altro avete raggiunto un buon risultato. Sì esatto, è un ottimo risultato che in realtà premia non soltanto le scelte dell'amministrazione ma soprattutto la capacità dei nostri concittadini di lavorare per far sì che si potesse salire a livello della quota di raccolta differenziata. Ovviamente è una base di partenza perché siamo arrivati all'82,5% nella media dell'anno 2018 e basta pensare, leggevo i dati pochi giorni fa del 1997 dove si brindava per un 5% si brindava. Quindi in questi anni, in tutto questo lungo cammino, praticamente siamo arrivati adesso all'82,5% quando abbiamo iniziato noi l'amministrazione eravamo intorno al 50%, addirittura avevamo un dato emblematico di gennaio 2017 che eravamo intorno al 39%, quindi eravamo ulteriormente scesi rispetto alla media. Abbiamo fatto un grosso lavoro anche in collaborazione con Marche Multiservizi ma soprattutto grazie al lavoro che i miei concittadini quotidianamente fanno per poter far sì che si potesse arrivare a questa quota, a questo valore. È un valore, ripeto, una base di partenza perché purtroppo ancora c'è chi è che sbaglia, c'è chi è che magari volontariamente lascia qualche fuori bidone. Siamo costretti anche a sanzionare, in due anni all'incirca che abbiamo iniziato questo metodo di raccolta abbiamo fatto oltre 80 sanzioni proprio per abbandono di rifiuto perché purtroppo quello è necessario. L'inciviltà. L'inciviltà, esatto, il senso di non rispetto nei confronti dei propri concittadini ancora purtroppo rimane da parte di alcune piccole frange, grazie a Dio, ma ci ha portato un ottimo risultato. E avere il premio come rifiuti free e comune riciclone, più riciclone delle marche nella nostra fascia, 5.000-15.000 abitanti, essere tra i migliori 10 in Italia, vuol dire che Fermignano c'è e soprattutto i miei concittadini sono molto bravi. Dobbiamo parlare di tantissime cose questa sera perché ci sono tanti progetti in cantiere, addirittura 12 cantieri aperti, cercheremo di fare anche un bilancio di quello che è stato il lavoro di questi primi suoi anni da sindaco. Vorrei chiedere intanto di questo rapporto con il comune di Gradaro, un'importante collaborazione. Sì esatto, in questi anni abbiamo cercato di iniziare delle collaborazioni ovviamente e sono nate delle collaborazioni molto importanti con il comune di Gradara insieme a Filippo, insieme a che siamo grandissimi amici oltre ad essere sindaci. Abbiamo iniziato una collaborazione, un rapporto di collaborazione che è nato con Popoli in Festa, una manifestazione che abbiamo lanciato noi nel 2017 proprio perché Fermignano è una città multietnica. Ha tantissima gente che proviene dall'estero, grazie alle aziende che noi abbiamo, abbiamo tantissime aziende nel nostro territorio che permettono di dare tantissimo lavoro all'interno della Valle del Metauro. E questo appunto ci ha permesso di creare questa manifestazione che si chiama Popoli in Festa, che da quest'anno è entrata a far parte anche Gradara. Ed insieme al prossimo anno rappresenteremo l'Italia in un progetto internazionale che si chiama Dialogo 5 P5, un progetto voluto dalla RIDE, che è la rite internazionale appunto che riguarda la parte dell'euro mediterraneo. Ed insieme a Gradara, insieme all'Università degli Studi di Urbino, ANCI, Lega Autonomie e la RIDE appunto, abbiamo costruito anche una carta, che è la prima carta a livello europeo che poi abbiamo presentato sia io che Filippo Gasperi a Bruxelles a marzo di quest'anno e a Bucharest insieme a Federico Mammarella che è un consigliere di Gradara. Abbiamo presentato una carta internazionale per l'inclusione sociale euro-mediterranea, una carta alla quale attualmente hanno aderito 34 sindaci provenienti da tutta Europa, dalla Turchia, da Antalya, fino ad arrivare praticamente a San Vincenzo in Croazia, fino ad arrivare passando poi per la Germania. E non ultimo abbiamo presentato, io poco meno di un mese fa, ero con il sindaco, in questo caso Filippo Sorcinelli, il sindaco di San Costanzo e il sindaco dell'Unti di San Lorenzo in Campo. Abbiamo presentato anche il neurodeputato Bartolo che si faceva promotore all'interno dei comuni del sud Italia per poter promulgare, per poter promuovere questa carta per l'inclusione. Anche per crescere, no? Assolutamente sì. Per crescere il territorio. Assolutamente sì. Nel 2017, quindi un anno dal suo insediamento, è stato aperto un ufficio Europa, un ufficio molto importante che ha dato anche degli ottimi risultati. Sì, esatto. Nel 2017 abbiamo lavorato tantissimo per far sì che si potesse aprire questo ufficio, un ufficio che è un punto di riferimento anche per la nostra valle, perché qualsiasi comune può fare riferimento, ma non riguarda soltanto l'amministrativo, cioè quindi la parte di amministrazione, ma si occupa anche dei privati. Quindi mandiamo in maniera settimanale, all'incirca o mensile, dipende chiaramente dalle news che abbiamo, le mandiamo a tutte le nostre aziende in modo tale che se hanno bandi a disposizione, possono essere aggiornati. Qualsiasi privato può incontrare una persona che è formata attraverso un master di secondo livello sui fondi europei. In questo momento stiamo facendo un bando, un POR, appunto dedicato agli over 30, dove inseriremo un'ulteriore figura all'interno di questo ufficio, andremo a inserire. Quindi di conseguenza stiamo lavorando e ha portato tantissimi frutti, perché guardavamo i giorni scorsi, abbiamo partecipato a più di 30 bandi in questi tre anni e mezzo, che vanno dai più disparati, da fondazioni, fino ad arrivare al massimo a un bando diretto che abbiamo poi fatto insieme a Gradara, che abbiamo presentato, un Erasmus+, che abbiamo presentato, scusa, un Euro for Citizen, che abbiamo presentato pochi giorni fa insieme al comune di Gradara, e passando quindi per i vari POR e tutto passa all'interno di questo ufficio che fa da filtro e soprattutto fa da collante tra le varie aree dell'amministrazione per permettere di mettere a posto tutti quanti i bandi. Quanti sono in totale i dipendenti del comune? Sono 40, compresi chiaramente i 5 operai esterni, quindi in realtà gli amministrativi... C'è tanto lavoro da fare, insomma, non sono tante le persone, eppure i risultati ci sono. Diciamo che oltre alla parte dei ragazzi, dello staff, che sono bravissimi e che quotidianamente loda, perché veramente tutti danno l'anima per poter far sì che l'amministrazione possa crescere, chiaramente ho messo sotto anche gli amministratori. Dicevamo appunto di questi fondi europei, tra gli altri ci sono quelli che riguardano l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, quindi anche qua è stato effettuato un intervento. Sì, esatto, la settimana scorsa mi sono risvegliato da una bellissima notizia del consigliere Biancani, che mi aveva mandato un messaggio dicendomi che appunto eravamo stati giudicatari di 500 mila euro per la sistemazione, la riqualificazione energetica della sede comunale di Via Mazzini, quindi la sede principale dell'amministrazione, dove ci sono state assegnate appunto mezzo milione di euro. Mezzo milione di euro che ci permetteranno, insieme a una parte di finanziamento preveniente del GSE, di fare un intervento di 900 mila euro per trasformare questo comune da una classe G, quindi la classe peggiore che possiamo pensare, che è talmente tanto energivoro che si fa difficoltà a poterlo scaldare, poter mantenere la struttura, a la classe migliore a livello energetico. Quindi di conseguenza diventerà un comune autosufficiente, una struttura comunale autosufficiente. Ma non solo perché, oltre a questo bando europeo, sempre sull'efficientamento, a luglio abbiamo iniziato i lavori e finiremo entro la fine di questo anno per la creazione di una tribuna fotovoltaica, la prima all'interno del nostro entroterra, che ha reso lo stadio autosufficiente da un punto di vista energetico, tanto è vero che abbiamo installato i pannelli da 12 kilowatt con degli accumulatori, più chiaramente i pannelli termici per poter far sì che il calcio, in questo caso lo stadio, non avesse più consumo di energia elettrica o comunque se drasticamente siano calate le spese di energia, che erano una delle uscite più importanti per la società sportiva che sta gestendo questa struttura. E questo l'abbiamo avuto grazie ai finanziamenti europei. Però non soltanto finanziamenti europei, ma anche progetti ministeriali vinti. Assolutamente sì, siamo stati abbastanza impegnati in questo periodo, e abbiamo terminato giovedì, finalmente dico perché è stato un lunghissimo lavoro, la progettazione esecutiva della nuova scuola primaria. Faremo da maggio, inizieranno i lavori della nuova scuola dedicata a 500 bambini, quindi la scuola elementare, ex elementare, adesso primaria, di Calpino e Fermignano verranno inserite insieme all'interno di una nuova struttura che verrà costruita nella zona di Via Donizzetti, Via degli Orti. verrà quindi collegata all'asilo, sarà una scuola completamente innovativa, una scuola 2.0, classe energetica ENZEB, quindi autosufficiente da un punto di vista energetico, tutto d'un piano, basta per avere un'idea delle dimensioni, il corridoio centrale lungo 110 metri. Però possiamo già dare i tempi dell'inaugurazione? O sarà difficile? Diciamo che è un pochino difficile, in questo momento è in fase di approvazione da parte del provveditorato delle opere pubbliche, quindi sta finendo il suo ITER, pensiamo che se la roadmap viene mantenuta nell'arco della fine dell'anno dovrebbe entrare in gara d'appalto, primi di maggio iniziare i lavori, 24 mesi per la realizzazione. Diciamo a fine 2022 dovremo essere operativi per poter entrare. C'è un finanziamento che riguarda anche la riqualificazione del ponte medievale, questo sempre per quelli ministeriali? Sì, in realtà qui abbiamo fatto un doppio canale, abbiamo lavorato tantissimo con il ministro Franceschini e qui devo anche ringraziare Alessia Morani che ci ha sempre aiutato da questo punto di vista per poter far sì di arrivare direttamente al ministro e abbiamo avuto un finanziamento di 150 mila euro per poter riqualificare il ponte romano, detto romano ma in realtà un ponte medievale e noi come amministrazione di lato abbiamo fatto un ulteriore bando europeo attraverso il GAL, il GAL Montefeltro, dove stiamo attendendo in questo caso la gradatoria se siamo ulteriormente quindi finanzati per altri 129 mila euro. Quindi sarà un doppio intervento, una parte fatto dalla sovrintendenza delle Marche in collaborazione con il ministero e una parte sarà dedicato dall'amministrazione proprio per far sì che il gioiello della nostra città che è stato rappresentato anche con un francobollo nel 2018 dedicato all'Europa e considerato uno dei punti più belli d'Italia come Skyline venga riqualificato, venga riportato su Antico Splendore. Cominciamo a leggere un po' di messaggi che ci stanno arrivando da casa, le chiedono ma perché ci deve essere proprio un ufficio del genere, credo si riferiscano all'ufficio Europa provincia e regione non dovrebbero assolvere questo servizio? Provincia ci stiamo lavorando, il presidente Paolini è poi incaricato direttamente me su questa materia e quindi ci stiamo lavorando per far sì di unire insieme tutti i comuni specialmente dell'entroterra. Pesaro ad esempio era partito per primo insieme a Fano che ha un ottimo ufficio Europa e sono quelli che hanno fatto un pochino da pripista in merito a questo argomento. C'è anche più possibilità poi di intercettare questi fondi delle persone che lavorano direttamente sul progetto può aiutare? Sì perché comunque sia dobbiamo pensare che costruire un progetto europeo non è una cosa semplice e diciamo provincia e comunque sia anche comuni più grandi come possono essere Fano o Pesaro possono soprattutto fare una formazione sui vari dipendenti che possono essere all'interno di vari staff ma chiaramente se uno ha necessità, ha la possibilità di poterlo creare è una delle cose migliori per poter ricercare fondi perché con i propri bilanci non è che si può fare chissà che cosa invece attraverso questi è un effetto moltiplicatore del finanziamento quindi di conseguenza hai maggiori possibilità per aprirti non solo all'Europa ma soprattutto per aprirti e costruire qualcosa di nuovo all'interno delle nostre città. Sindaco vogliono anche delle delucidazioni per quanto riguarda l'argomento della protezione civile. Le vado a leggere uno di questi messaggi. A Fermignano ci sono tantissime cose apprezzabili. Una di queste era l'ex gruppo di protezione civile che operava con straordinaria competenza e tempestività nei momenti emergenziali. Ricordano ad esempio la terribile nevicata che successe nel 2012 dove grazie ai suoi mezzi sono state salvate anche delle vite umane. Nessun fermignanese proseguono. Si spiega ancora perché il sindaco l'abbia chiusa lasciando quindi questo servizio così un po' vuoto senza persone in questo caso da quanto emerge da questo messaggio che non possono più lavorare, non ci sono volontari. Però partiamo dall'inizio, facciamo un passo indietro perché molti che ci stanno seguendo da casa e che magari non sono di Fermignano non conoscono questa vicenda. Che cosa è successo? Beh diciamo sicuramente è una delle vicende più brutte che ho dovuto affrontare nei tre anni e mezzo di amministrazione. Ovviamente non è stata una scelta semplice ma è stata una scelta condivisa con il Dipartimento regionale di protezione civile. Ci sono state delle situazioni nelle quali praticamente abbiamo dovuto fare delle contestazioni dirette all'ex coordinatore in questo caso e queste contestazioni sono state scritte, ci sono stati dei richiami appunto delle difide nei tre anni e mezzo del mio operato nelle quali praticamente c'erano delle cose che non erano state fatte in maniera corretta. Abbiamo chiesto più volte facendo anche... Corretta intende la norma di legge comunque. Sì sì nel senso che noi chiedevamo di fare delle cose, nel senso che si chiedevano chiaramente di farle in regola, si chiedevano comunque sia delle autorizzazioni che mancavano per fare delle attività. Abbiamo sempre chiesto la possibilità di poter collaborare e non di diventare due muri e due corpi diversi perché si chiama gruppo comunale. Chiaramente la protezione civile non è chiusa perché in questo momento ci sono attualmente iscritti 34 ragazzi nuovi... Che operano. In caso di emergenza sarebbero operativi. Esatto, inizieranno ad operare praticamente da questi giorni. La settimana scorsa si sono riuniti per poter fare il nuovo referente della protezione civile, del nuovo gruppo. Si riuniranno poi nell'arco di questa settimana per poter decidere, perché abbiamo chiesto loro di decidere in maniera tranquilla, serena e io ratificherò chiunque vorrà praticamente candidarsi la possibilità di fare il nuovo referente. Quello che ho detto chiaramente è che l'amministrazione deve essere una spalla perché è un gruppo comunale il responsabile della protezione civile unico e il sindaco e non si può chiaramente decidere a sé, a o arrogarsi a sé, qualche attività che magari non è corretto fare e che non aspetta. Noi alcune decisioni soprattutto. Quindi è stata una decisione sofferta, ma abbiamo lavorato, ripeto, in simbiosi con il Dipartimento regionale e soprattutto con il dirigente della protezione civile unico della Regione Marche per far sì che ci fossero delle cose per sistemare il tutto. Anche perché da come ho capito la responsabilità quindi sarebbe indirettamente la sua? Solo direttamente la mia, esatto, esattamente perché il sindaco è responsabile unico. L'unica cosa che c'è da spiegare è anche questa. Purtroppo il regolamento della protezione civile è un regolamento strano. Devo dire che anche lo stesso dirigente praticamente l'ha notato nel senso che purtroppo il sindaco è l'unico responsabile ma se praticamente il responsabile non opera in maniera congrua oppure ci sono delle problematiche non può essere sanzionato a livello disciplinare non possono esserci richiami, non ci può essere niente. E purtroppo per poter far ripartire un gruppo si è dovuto sciogliere e poi ripartire perché purtroppo non c'era la possibilità di togliere dalla carica direttamente il responsabile. Adesso però comunque sia fortunatamente acqua passata abbiamo 34 ragazzi nuovi che sono disponibili a dare il massimo, il 100% per la città anche se ricordo una cosa importante c'è una catena del soccorso molto importante dove prima di tutto ci sono i professionisti come ad esempio i Vigili del Fuoco che interverrebbero e a supporto poi ci sono tutte le associazioni di volontariato io stesso faccio parte della Croce Rossi Italiana da oltre 15 anni e quindi so benissimo come funziona questa catena e chiaramente avremo un ulteriore prezioso contributo da parte di queste ragazze e chi vorrà anche del passato che ha fatto parte potrà rientrare, le porte sono aperte a tutti. Un bel invito anche perché spesso si critica però ci si potrebbe mettere anche a disposizione quindi lavorare in prima persona per salvare la vita degli altri. Assolutamente sì. Arrivano ancora tanti messaggi appunto per quanto riguarda la protezione civile ma credo che abbia specificato insomma bene qual è stata la situazione. Ha detto che fa parte lei della Croce Rossa giusto? Sì. Infatti è anche una città cardioprotetta. Sì esatto e insieme ad Asur già da settembre 2016 abbiamo creato la città della prevenzione siamo stati la prima città delle marche insieme a Cingoli dopodiché adesso si è unito a Fano San Costanzo non da ultimo Valle Foglia dove facciamo dei protocolli sperimentali. Abbiamo deciso lo scorso anno di investire sulla città cardioprotetta abbiamo distribuito diversi defibrillatori all'interno del paese della nostra città ad esempio questo si trova nella frazione di Calpino ne abbiamo un altro sotto l'edificio comunale ne abbiamo altri sparsi e tabellati all'interno delle varie frazioni del nostro comune ne installeremo uno all'anno all'interno delle varie frazioni ma soprattutto insieme alla Croce Rossa abbiamo fatto la parte di formazione quest'anno abbiamo formato oltre 30 persone 30 cittadini che hanno avuto la possibilità di avere il loro patentino per il defibrillatore che verranno poi richiamati in maniera annuale per i vari corsi di aggiornamento e per avere sempre fresco in memoria la possibilità di utilizzarlo è una cosa importante perché dobbiamo pensare che è ancora la prima causa di morte e proprio per questo abbiamo deciso di fare questo lavoro intenso all'interno della nostra città e devo dire grazie anche al Lions Club di Urbino che ci ha donato un defibrillatore e grazie anche a Conad Fermignano che ha donato il defibrillatore del 2019 Andiamo avanti con i messaggi se un grande le scrivono hai fatto più te in tre anni che tutti gli altri in trenta avanti tutta Emanuele e ancora le chiedono come andrà a finire la vicenda del bocciodromo la vicenda del bocciodromo è una vicenda annosa sembra un pochino la storia di tutta la provincia abbiamo dei bocciodromi anche Pesaro hanno avuto lo stesso problema in questo momento siamo vincitori di un finanziamento siamo stati, abbiamo la Regione Amar che ha finanziato attraverso un click day noi siamo arrivati terzi, eravamo arrivati su oltre 100 progetti presentati in questo momento stiamo lavorando purtroppo per sciogliere il contratto con l'azienda che aveva vinto purtroppo prima non potevamo farlo perché a livello legale non avevamo la possibilità eravamo soggetti ai ricorsi l'azienda si era impegnata comunque sia a riprendere i lavori nonostante più volte avessimo sollecitato quasi in maniera infinita il direttore dei lavori non so ha mandato non so quanti milioni di pecco ormai per poterli far ripartire seguendo tutto l'iter abbiamo deciso insieme anche al presidente della bolsofila Filippo Regini che ringrazio anche per la sua eterna pazienza perché sono veramente rammaricato perché purtroppo Filippo insieme a chiaramente tutto il loro staff ha lavorato tantissimo per poterla farla riprendere e noi come amministrazione ci abbiamo creduto nel loro lavoro rimettendoli a norma completamente portando via l'Eternit rifacendo, abbattendo tutte le barriere architettoniche facendo un progetto da quasi 200 mila euro il problema a volte capitano delle aziende che purtroppo non riescono a portare a compimento i lavori che hanno iniziato l'hanno iniziato in maniera come vedete anche qui da questa foto praticamente alle mie spalle vedete quello che è e purtroppo non sono riusciti a terminarlo nei tempi e non hanno la forza di poterlo continuare abbiamo deciso di rescindere il contratto e nell'arco di un breve tempo riassegneremo faremo di nuovo un bando di gara per poter riassegnare in modo tale da poter ridare ai ragazzi immediatamente una struttura funzionante e sono veramente rammaricato perché è uno di quei progetti a cui tenevo tantissimo a livello personale ho litigato con la dita ancora non poco meno di dieci giorni fa dove mi hanno dato e mi dicevano che era una cosa che sentivo a livello personale sì, la vedo a livello personale perché era una battaglia che insieme a Filippo abbiamo fatto insieme al Presidente e lo dobbiamo portare avanti a proposito di abbattimento delle barriere architettoniche c'è anche il progetto che riguarda il Palazzo Comunale sì, in realtà come giunta ci siamo dati un incipit soprattutto abbiamo fondato un hashtag dicendo una barriera all'anno cioè quello di abbattere almeno una barriera architettonica all'interno dell'amministrazione all'anno perché tutti hanno il diritto di poter usufruire delle strutture comunali e dei servizi comunali quest'anno nei tre anni in realtà praticamente di amministrazione abbiamo lavorato un pochino di più perché siamo partiti dall'esilo dalla scuola dell'infanzia siamo passati poi adesso alla scuola elementare in questo momento dove è stato installato un nuovo ascensore la biblioteca e appunto il Palazzo Comunale sono quelle che stiamo lavorando adesso i lavori sono già stati consegnati ad esempio nel Palazzo Comunale che avete alle spalle per 94.000 euro e inizieranno fisicamente dalla prossima settimana è una battaglia di civiltà perché dovete pensare che il Palazzo Comunale è stato costruito nel 1969 e da allora non è mai stato fatto nulla per permettere a una persona che ha una disabilità motore di salire al secondo piano ad assistere magari anche a un consiglio comunale o andare negli uffici del piano superiori addirittura si doveva suonare il campanello far scendere l'operatore oppure il funzionario di chi che sia e parlare nell'atrio cosa veramente indegna per un comune del 2019 per l'anno 2019 e proprio per questo abbiamo deciso di abbattere la barriera architettonica attraverso un nuovo ascensore trilaterale un ascensore abbastanza particolare ma che collegherà tutto nella sua interezza il Palazzo Comunale dal Salone che è il sottostante dove si fanno manifestazioni fino ad arrivare chiaramente alla sala consigliare quindi un progetto che poi potrebbe continuare anche negli anni continuerà sicuramente negli anni perché dopo ci sarà il progetto della parte energetica che riguarda sempre la stessa struttura e soprattutto il progetto dell'abbattimento continuerà perché ci entra dentro il bocciodromo il nuovo Palabivio ci sono tante altre strutture nelle quali abbiamo deciso di intervenire Sindaco ci parli dei servizi sanitari per gli anziani Allora, qui Fermiliano è una pecora nera all'interno dell'Alta Valle del Metauro perché è l'unica che non è una casa di riposo sono due anni che insieme ad Alessandro insieme al mio vice stiamo lavorando e abbiamo finalmente trovato un'azienda che ha deciso di investire e in questo momento sono stati fatti gli ultimi preventivi per poter iniziare i lavori e per poter costruire questa casa di riposo è una casa che è da tante persone è voluta e devo dire ho trovato fortunatamente una cooperativa una cooperativa locale di Pesaro dalla provincia di Pesaro che ha deciso di investire noi come amministrazione ci stiamo impegnando insieme a loro stiamo costruendo questo progetto a quattro mani stiamo costruendo e siamo arrivati diciamo sabato l'ultima azienda ha visitato appunto la struttura che abbiamo deciso ha designato per poter far sì che ci fosse questa nuova casa di riposo dedicata ai nostri concittadini l'ultima azienda l'ha visitata sabato mattina quindi siamo in attesa della risposta da parte del privato dei preventivi e poi partiranno i lavori ci stanno arrivando diversi messaggi per quanto riguarda la stazione la ferrovia cosa pensa della conversione del vecchio tracciato della ferrovia in pista ciclabile un progetto sponsorizzato scrivono dai sindaci della costa e dal PD regionale ancora chiedeteli che fine farà la ferrovia e la stazione qual è il suo punto di vista? io sono un ciclista sono un ciclista ma in realtà quindi già la mia risposta è implicita nel senso che in realtà Fermiliano è tagliato da questa ferrovia dall'86-87 io avevo 4 anni quando praticamente fu chiusa fu dismessa e da allora praticamente è rimasta in quella situazione siamo in una situazione di abbandono e se la ragione avrà la forza di poter costruire la possibilità di fare questa pista ciclabile io credo che tutti i miei cittadini festeggerebbero io ho dei quartieri che ho dovuto tenere ferma praticamente la raccolta firme che volevano fare per sostenere l'iniziativa fatta dalla regione ok proprio perché tutti vorrebbero questa possibilità di utilizzare questa pista ciclabile all'interno della nostra città che taglia proprio tutti i quartieri della nostra città che permetterebbe di unirli e si appunto se ci fosse questa possibilità noi saremmo pronti a sponsorizzarla chiaramente se riusciamo a trovare se la ragione o lo Stato decide di investire tutti quei milioni di euro per poterla ricostruire riformare oppure certamente trasformarla in un TPL cioè in un trasporto pubblico locale più che in una ferrovia turistica sarei il primo a firmarlo però come si dice l'amministratore è una persona concreta cioè nel senso uno che vuole vedere il risultato delle cose ne abbiamo parlato tante volte è un pochino come l'araba fenice tutti dicono che esista ma nessuno l'ha mai vista un pochino come anche la Fano Grosseto si se ne parla ormai da decenni da decenni ma ancora siamo lì ok se si prende una decisione che sia quella si porti avanti e basta chiudiamo questo capitolo e iniziamo veramente a lavorare su questa cosa parlavamo prima di fondi regionali ma dobbiamo parlare altresì anche del Pala BCC e della biblioteca si esatto il Pala BCC in questo momento è la società vincitrice praticamente che è la società roller che gestisce ormai il Pala BCC da tanti anni sta lavorando praticamente ha lavorato insieme a noi per la creazione del progetto che hanno vinto poi a livello regionale per un finanziamento che permetterà di abbattere i rumori all'interno permetterà di sistemare le grondaie i lavori in realtà sono già iniziati dopodiché a breve verranno montate anche le finestre laterali al posto dei teloni che hanno sempre avuto che hanno sempre contraddistinto questo Palatenda e quindi stiamo lavorando mentre per quanto riguarda la biblioteca siamo in pieno lavoro abbiamo investito oltre 250 mila euro per far sì che avessimo una biblioteca rinnovata a norma perché ce la siamo trovati che non era norma di legge perché non aveva la certificazione antincendio abbiamo trovato l'amianto oltretutto perché addirittura era stato fatto un pavimento galleggiante sopra un vecchio un vecchio pavimento degli anni 60-70 che purtroppo avevano contenenti delle fibre d'amianto quindi abbiamo dovuto chiaramente cambiare tutto abbiamo fatto l'abbattimento delle barriere architettoniche anche in questa struttura perché non c'era accessibilità da chi ha disabilità motoria della biblioteca mi auguro di poterla riaprire entro gennaio primi metà di gennaio poterla riaprire i lavori sono in fase molto avanzata abbiamo un'azienda che sta lavorando in maniera molto seria un'azienda del territorio che si è impegnata tanto ed ha sposato anche il progetto l'idea della nuova biblioteca e quindi è un bel progetto oggi parlavamo poi con il mio assessore alla cultura dove all'interno oltre delle aree dedicate ai bambini che intitoleremo poi a un nostro ex dipendente che lavorava all'interno della biblioteca che è morto prematuramente abbiamo deciso di fare un'area dedicata alla violenza di genere quindi abbiamo delle associazioni che nel nostro territorio siamo tra l'altro anche nel periodo esatto proprio per questo il 25 di novembre festeggeremo con una manifestazione che si chiama Mama non Mama che durerà dal 25 novembre all'8 di marzo del 2020 durerà sono tante iniziative che verranno fatte e appunto insieme costruiremo anche questa piccola area dedicata alla violenza di genere Gli ultimi messaggi prima di andare in pubblicità perché ce ne stanno arrivando diversi un sindaco che fa tiene chiaramente al paese i suoi concittadini ha una politica lungimirante quindi le stanno facendo dei complimenti lo stesso ancora finalmente si respira aria nuova quindi sindaco non molli ce ne sono davvero tanti comunque molti positivi perché che cosa significa essere in Europa un caro saluto e complimenti per tutto tu che sei uno IE e poi le dicevano anche prima adesso non riesco a ritrovare il messaggio sindaco eccolo qua sindaco prosegui per la tua strada con la tua squadra che state facendo bene o non perdete tempo a rispondere su facebook a commenti sterili e inutili ammirabile l'impegno che mettete nei progetti per le strutture scolastiche e anche la biblioteca appunto ne abbiamo parlato poco fa è lo stessa cosa nei festival che promuovono la crescita umana e culturale di Fermignano e non solo è molto attivo sui social a lei? abbastanza anzi me lo rimprovo una volta le minoranze proprio perché sono abbastanza attivo ma in realtà io penso che ci sia necessità di comunicare noi abbiamo martedì abbiamo approvato un progetto che si chiama anzi abbiamo aderito ad una no profit appunto che ha fatto un progetto che si chiama parole ostili il manifesto della comunicazione non ostile dove appunto si parla di virtuale e reale sono dieci comandamenti appunto del buon comunicare all'interno da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei cittadini io penso che comunicare sia fondamentale magari a volte si sbaglia perché a volte purtroppo bisogna anche rispondere come diceva il messaggio di prima anche a chi è che in continuazione magari cerca di fare letter quello che in continuazione magari fa le une da tastiera che poi dopo magari l'incontri quando fai la spesa ti dice che era arrabbiato con la moglie quindi ti ha scritto un commento magari anche cattivo e anche pesante e allora bisogna imparare a comunicare ed educare uno ci prova perché ci si può soltanto provare abbiamo tanti maestri diciamo in Italia per comunicare come sindaci ma anche come amministratori come buona comunicazione ci stiamo provando perché questo progetto che appunto è il manifesto della comunicazione non ostile è stato approvato anche da alcuni comuni qui vicino come ad esempio San Lorenzo in campo San Costanzo oppure Gradara tutti insieme abbiamo fatto questo progetto dopo essere state a Bruxelles tutti quanti insieme l'ultima volta noi abbiamo conosciuto Elena Piastra che è la sindaca di Settimo Torinese che per prima ha approvato questo manifesto fra poco torneremo a parlare di riqualificazioni di bike park ma anche di asfalti e tanto altro leggeremo anche i vostri messaggi ma ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a fra poco e siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi vi ricordo che potete anche intervenire appunto in diretta parlando direttamente con il primo cittadino oppure potete inviarci un breve messaggio di testo anche con Whatsapp i numeri di riferimento li vedete sempre in sovrimpressione andiamo avanti a leggere i messaggi Sindaco ci parli del crossodromo La Ginestra Il crossodromo La Ginestra è una perla è una perla per la nostra città e per la nostra introterra perché è uno di quei crossodromi dove anche Valentino Rossi viene a girare viene a girare Melandri è una delle migliori piste delle marche considerate se non forse del centro Italia lo denota il fatto che non poche settimane fa avevamo oltre 180 piloti ospiti del motoclub fermignanese per l'ultima gara stagionale ed avere 180 piloti all'ultima gara stagionale è un vero e proprio record devo dire che il crossodromo La Ginestra è stato acquistato a febbraio di quest'anno del 2019 finalmente dopo 40 anni di attività è stata data dignità ad un'associazione che è il motoclub fermignanese che è una vera e propria famiglia e che hanno un amore spasmodico per le moto e qui Michele Di Lorenzi che è il presidente insieme a tutti i suoi collaboratori che ha avuto anche l'occasione di premiare un anno fa un anno e mezzo fa come benemerenza perché appunto avevano festeggiato i 40 anni di attività sono un vero e proprio motore sono riconosciuti a livello nazionale per la loro attività e come premi appunto siamo riusciti ad acquistare questa attività questo crossodromo non è stato semplice è un percorso che è stato iniziato dalla precedente amministrazione ma che per degli errori burocratici che erano stati fatti purtroppo si era fermata si era arenata abbiamo dovuto far ripartire completamente l'iter che do giusto per darti un'idea un aneddoto ci avevano chiesto di trovare tre crossodromi in Italia paragonabili per vedere se la stima era corretta e sfido chiunque quando ho parlato con il funzionario appunto che ci aveva chiesto di trovare tre crossodromi in Italia che fossero in questo momento in vendita cioè da nessuna parte non esiste ovviamente quindi di conseguenza è stato un iter molto lungo burocraticamente ripreso da zero un grande impegno da parte del motoclub da parte dell'amministrazione da parte dell'ufficio tecnico si è arrivati alla fine e finalmente si è messo in sicurezza perché appunto la proprietà non era la nostra ma del comune di Urbino che l'aveva messa in vendita grazie al sindaco Feduzzi e l'amministrazione comunale è stato rinnovato il parco macchine dopo oltre 30 anni cosa mi puoi dire del grande traffico a Bivio-Burzaga? Allora parto dalla prima domanda quando siamo entrati in amministrazione avevamo un camion del 1979 con la guida destra con una gru non funzionante perché chiaramente non era omologata per dare un'idea del parco mezzi che avevamo una ruspa dell'83 un'eterna e un grader del 1972-73 più degli api che venivano utilizzati dai primi anni 90 questo era il parco mezzi che era stato dato ai nostri operai abbiamo investito quasi 100.000 euro quest'anno abbiamo deciso di rifarlo completamente da capo proprio perché altrimenti non riuscivamo neanche a fare i minimi lavori di manutenzione e in più non avevamo più la sicurezza del lavoro praticamente dei nostri ragazzi abbiamo comprato in questo momento un camion nuovo con una gru nuovissima una terna che è arrivata la settimana scorsa un'ape nuovo che è arrivato un mese fa è arrivato e stiamo prontando l'acquisto per il 2020 per un nuovo grader quindi stiamo lavorando in realtà a 360 gradi per poterli ridare dignità perché il lavoro per fare un lavoro dignitoso ok e soprattutto per dare anche una possibilità di manutenzione delle strade di campagna quelle bianche di chiaia che vengono fatte solitamente da parte dell'amministrazione chiaramente devono essere fatte con dei mezzi toni non li avevamo li abbiamo dovuti riacquistare completamente per il traffico del bio e borzaga è una cosa annosa soprattutto nella mattina e nel rientro perché chiaramente chi lavora di urbino esatto oppure chi lavora nella zona industriale gli orari di punta chiaramente purtroppo è un nodo è un nodo che potrebbe essere risolto soltanto con una cosa con la Fano Grosseto perché si sarebbe infatti richiedevano proprio anche di questo esatto perché ci può rispondere direttamente anche al cittadino risponde direttamente esatto su questa cosa nel fatto che con la Fano Grosseto verrebbe bypassata con la galleria in questo momento con ANS stiamo facendo la progettazione di tutte le rotonde che permetteranno soprattutto di semplificare e di velocizzare l'uscita del traffico e mettere in sicurezza esatto con ANS abbiamo fatto un grandissimo lavoro con l'ex presidente della provincia Daniele Tagliolini e Andrea Biancani che siamo riusciti a far passare la vecchia provinciale metaurense ad ANS cosa che tutti i cittadini hanno notato perché sono reinizzate le asfaltature sono reinizzate la messa in sicurezza della strada e grazie a loro stiamo lavorando appunto anche per la creazione di queste sette rotatorie all'interno della nostra città per fluidificare e portare via anche i semafori chiaramente per il bivio bisognerà cercare di risolvere questo problema ma fino quando non verrà risolto con l'E78 quindi con l'alfano grosseto sarà difficile io mi auguro che il nuovo governo si impegni su questa cosa la regione Marche il presidente Ceriscioli la messa comune delle priorità che ha illustrato il ministro De Michelis mi auguro che possa essere aperta il primo possibile la guinza per poter far sì che l'alta valle del Metauro non sia più una riserva indiana come la chiama il mio collega Gianni Luzzi ma che in realtà sia la possibilità di avere una vera e propria possibilità di sviluppo e che questa fano grosseto venga creata venga fatta noi l'abbiamo chiesto prima precedentemente al ministro del Rio abbiamo provato con Toninelli con il ministro Toninelli ma non ci ha mai ricevuto non ci ha mai e riproveremo in questo momento con la De Michelis per far sì che si possa arrivare finalmente ad un sogno lungo 40 anni 50 anni ormai ho perso la memoria ne ho perso per poter arrivare alla fine arrivare alla luce cosa succederà ai mezzi della protezione civile potranno essere utilizzati dei nuovi iscritti? certamente quando faranno i corsi le abilitazioni per l'utilizzo verranno normalmente utilizzati da i ragazzi della protezione civile e ripeto una volta fatte le abilitazioni che devono essere fatte per legge verranno utilizzati Sindaco quando aprirà la Casa della Musica? allora abbiamo deciso con Alessandro che è il mio vice che ha curato l'intero progetto della Casa della Musica ad inaugurarla l'8 di dicembre pensavamo di inaugurarla per Santa Cecilia quindi per il 24 di novembre che è la giorno che la festeggiamo noi a Fermiano con il nostro concerto cittadino in realtà purtroppo siamo andati lunghi con le ultime lavorazioni gli strumenti sono tutti quanti arrivati siamo nella fase di montaggio finale l'8 di dicembre alle ore credo o le 16 o 16.30 verrà fatto il taglio del nastro definitivo alla nuova Casa della Musica poi credo che pubblicherà anche sui social magari sarà aggiornati cittadini vogliamo la guardia medica le dicono beh anche questa potrebbe essere fondamentale per i cittadini qui devo dare agito del grande lavoro che Alessandro sta facendo di concertazione all'interno dell'ambito sociale abbiamo presentato un ordine del giorno un mese fa all'interno dell'ambito per chiedere a tutti i colleghi dei nove comuni all'interno del nostro Interland di avere la possibilità di sganciare una delle guardie mediche delle tre guardie mediche che presentano Rubino nel periodo festivo nella parte diurna di portarla a Fermignano abbiamo dato questa possibilità a noi di affittare di dare dei locali consoni per poter far sì che ci possa ospitare la guardia medica ci stiamo lavorando Alessandro ci sta lavorando veramente a testa bassa su questa attività speriamo di arrivare nella luce i comuni stiamo cercando di mettere tutti quanti d'accordo perché deve essere uno sforzo unico ora manca soltanto un tassello che è quello dell'area vasta appunto che ci deve dare una risposta in merito a questa possibilità anche perché gli interventi di Urbino la maggior parte gravitano sul territorio di Fermignano o sul territorio di Canavaccio che attigua il nostro Parlavamo prima di viabilità importanti sono anche i lavori di asfaltatura vogliamo un attimino aggiornare anche i cittadini sulle strade che sono in progetto o quelle che sono state realizzate di recente Sì dai diciamo che nei primi tre anni mi hanno rimproverato molto che ho fatto pochi asfalti ma ho lavorato molto sulle strutture per un motivo sostanziale avevamo delle strutture fatiscenti oppure che molte non erano a norma quindi abbiamo dovuto lavorare dalla scuola media all'asilo al nido al palazzetto dello sport quindi i fondi sono stati rirottati li abbiamo dovuti rirottare in queste aree lavorando soprattutto con dei bandi per poterli finanziare in questo momento stiamo aspettando che il tempo ci giovi un po' nel ritorno finalmente il sole perché stiamo aspettando l'asfaltatrice che dovrà fare 250.000 euro di asfaltature dove verrà interessata la via principale quindi da Calpino verrà portata praticamente fino al centro via Polidoro Virgili la salita di Santa Maria che quindi porta anche all'agriterismo di Caziente Luccio abbiamo quindi tutta una serie di aree già in programma via Gramsci ma le farete la prossima primavera o anche a breve? stiamo aspettando che arrivi il tempo buono perché entro dicembre praticamente saranno fatti entro dicembre saranno fatti in questo momento alle mie spalle si vedono gli abbattimenti delle barriere architettoniche che abbiamo fatto nel centro rifacendo tutti i marciapiedi lo scorso anno avevamo fatto l'otto sotto quindi di via Veneto e di via via Roma tutte le vie laterali quest'anno abbiamo risistemato tutti quelli della via principale proprio perché dovevamo fare queste asfaltature e abbiamo dovuto tardare nel crono programma perché abbiamo fatto i lavori sulla fibra Open Fiber finalmente dopo un lavoro incessante da parte dell'assessore Romani e da parte mia di pressione su Open Fiber per fare iniziare i lavori per la fibra hanno fatto questi tagli che dovevano fare obbligatori e quindi ci hanno permesso così di riasfaltare da nuovo e la ristrutturazione invece è prevista nell'area industriale? Sì, adesso uno dei miei consiglieri di opposizione ha presentato un ordine del giorno che verrà discusso domani sera in consiglio comunale verrà discusso e sì in realtà noi abbiamo fatto già una proposta di un POR per il prossimo settennato alla Regione Marche l'abbiamo presentato questo anno scusate nel 2019 all'assessore Bora e a Travagliati che è uno dei responsabili dell'ufficio politico europeo della Regione Marche nella quale si chiedeva la possibilità di avere dei fondi europei dedicati alla rigenerazione delle zone industriali non è male gli asfalti non sono logori soltanto a Fermignano ma possiamo girare qualsiasi zona industriale della Regione Marche se non d'Italia e troveremo degli asfalti desueti degli anni 70 o degli anni 80 purtroppo abbiamo necessità di riammodernarle riportarle al passo anche ad esempio con dei solar parking abbiamo pensato abbiamo pensato alla possibilità di farli vivere ad esempio con anche delle piste ciclabili in modo tale da poter far sì che chi abita a Fermignano possa andare a lavorare anche in bicicletta abbiamo chiesto alla Regione di far inserire nel prossimo settennato appunto dei bandi dedicati a questa attività l'assessore si è impegnato a prendere e ha preso coscienza della problematica ci ha assicurato questa possibilità quindi aspettiamo che possano uscire in modo tale da poter fare gli interventi vogliono farle notare che Fermignano è l'unica cittadina della zona senza una piscina ovviamente precisano sindaco non per colpa sua però le chiedono se ha intenzione di fare qualcosa in tal senso fare una piscina sarebbe il sogno anche perché almeno mi darebbe la possibilità di imparare a nuotare perché no mia moglie me lo dice sempre sono l'unico sindaco che non sa nuotare però in realtà è una battuta c'è sempre tempo c'è sempre tempo per imparare c'è sempre tempo al di là di tutto delle battute creare una piscina molto difficile perché io sono una persona concreta sono una persona che purtroppo deve dire anche dei no perché ce ne abbiamo già tante intorno lateralmente perché se dobbiamo pensare a Urbani Urbino Acqualagna Fossombrone sono tutte piscine laterali le nostre che già fanno fortissima difficoltà a potersi mantenere da sole perché purtroppo non c'è così tanto i costi della struttura sono elevatissimi rispetto alla possibilità di mantenersi da sola chiaramente ci sarà la possibilità di poter costruire un impianto attraverso magari anche l'utilizzo di fondi saremo i primi a poterlo fare ci metterò anima e corpo però posso dire da qui alla fine del mandato sono sicuro ad oggi in base anche alla programmazione che abbiamo anche per l'anno 2020 una difficoltà nel poter fare in questo investimento perché abbiamo cercato di investire su anche altre tipologie di sport Quando riapre il centro famiglie? Il centro famiglie riapre a giorni perché oggi abbiamo avuto l'incontro abbiamo avuto Ubaldo Ragnoni che è il mio assessore dedicato all'istruzione e alla famiglia che è anche il presidente del consiglio ha finito oggi gli ultimi incontri con la cooperativa che gestisce gestirà il centro famiglie purtroppo li abbiamo dovuti spostare dai locali dove eravamo in precedenza perché in questo momento sopra ci sono i lavori della zona della biblioteca della sala Monteverdi quindi di conseguenza saranno spostati nel piano semi-interrato ma a breve nell'arco di qualche settimana ripartirà anche il centro un'altra cosa importante un altro lavoro non solo allo stadio ma anche il bike park dopo anni di attesa sono iniziati i lavori anzi siamo quasi al termine sì esatto il bike park era un sogno da parte dell'associazione sportiva dilettantistica Mondo Bici che erano tanti anni che avevano la volontà di farla ci siamo riusciti abbiamo vinto anche qui un bando insieme all'associazione Mondo Bici e insieme all'associazione sportiva Fermignano Calcio questi qui che vedete sono i lavori in questo momento qui siamo con i due presidenti della società e anche con il mio assessore allo sport Firella Paolini i lavori sono già iniziati ormai da mesi perché coinvolgono la creazione appunto di questa struttura che è la prima in Italia di questa tipologia saranno 4.500 metri quadri dedicati all'attività del ciclismo un po' come quella che voi avete fanno la trave però chiaramente noi essendo più collinari l'abbiamo dedicata alla mountain bike l'abbiamo dedicata abbiamo una scuola di mountain bike di 30 ragazzi che vengono addirittura anche da Fano per poter far sì di poter utilizzarla e che attendono l'inaugurazione l'inaugurazione mi auguro che si possa fare prima di Natale perché è un regalo che vorrei fare a queste società e questo intervento comprende però anche il rifacimento una parte del rifacimento dello stadio diciamo che in questa estate abbiamo risistemato e riqualificato tutta la struttura sportiva l'ultima cosa che mi manca è il parcheggio che abbiamo intenzione di fare nel 2020 che abbiamo già finanziato il progetto esecutivo già ce l'abbiamo in mano è già stato finanziato per 80.000 euro che dovrebbe partire nella primavera del 2020 dovremmo avere anche un'altra fotografia che riguarda le potature siete intervenuti anche sulle piante in tre anni abbiamo lavorato su oltre 300 piante ripeto parliamo di fermigliano non di Fano quindi il bilancio è chiaramente sempre rapportato ovviamente abbiamo lavorato praticamente nell'ultimo periodo alla cremente soprattutto nel centro perché avevamo 16 piante pericolanti 16 piante purtroppo quasi centenarie alcune di loro ma che per inclinazione vedete anche voi i tronchi come erano all'interno forse sembravano piante sane all'interno invece erano completamente mangiate o completamente rovinate che poi sono anche pericolose perché in particolare quando c'è forte vento o mal tempo esatto già quest'anno a febbraio erano cadute due ne erano cadute con il vento forte abbiamo fatto fare una mappatura di tutte queste piante molto grosse che abbiamo all'interno del nostro centro storico perché molte ci sono pini come quelli che vedete qui nella foto oppure ci sono i pocastani sono stati visitati dagli agronomi e dall'ufficio forestazione dell'unione montana e ci hanno dato purtroppo dei risponsi negativi su alcuni di queste e in questi giorni abbiamo dovuto fare l'abbattimento certo però che negli anni nei prossimi anni e soprattutto spero mi auguro già nel 2020 possiamo fare un investimento per una ripiantumazione in modo tale che si possa avere Fermiano è già una città molto verde perché ripeto soltanto in tre anni abbiamo lavorato solo su più di 300 piante però diciamo che cercheremo di rimettere ripiantare con una pianteumazione corretta e autottona soprattutto del territorio perché questi pini non sono del nostro territorio e di rifare un viale di risistemare e riqualificare quindi tutto il viale centrale sul centro storico invece lì siete intervenuti per quanto riguarda l'illuminazione è giusto? sì esatto abbiamo fatto in realtà io ho ridotto il progetto della piazza l'ho portato a termine con non poche difficoltà e poche peripestire perché l'azienda era sull'orlo del fallimento che aveva vinto l'appalto siamo arrivati in realtà solo con 20 giorni di ritardo sulla consegna dei lavori con un vero e proprio miracolo fatto da me dal mio staff e dall'architetto Storoni che è il capo ufficio tecnico devo dire la sincera verità su questa cosa e da lì poi dopo abbiamo fatto il secondo step che è l'illuminazione un'illuminazione scenografica fatta grazie all'ingegnere Stagnozzi di Fermignano e adesso nel 2020 lo dedicheremo praticamente alla parte finale che è quella del red urbano quindi basta pensare per un'idea dell'illuminazione quello che ha riportato come risultato positivo in un anno abbiamo risparmiato tantissimo perché tutta l'illuminazione rifatta era valeva come costi finanziari molto di meno rispetto cioè le spese erano molto più alte soltanto illuminando la piazza rispetto a tutti i corpi illuminanti che abbiamo inserito nel centro storico Sindaco che cosa ci dice sulla spesa per Pax più di 25 mila euro festival poco partecipato in realtà io penso che noi a Fermignano abbiamo fondato tre manifestazioni molto importanti una si chiama Staccia Minaccia che stamattina appunto presentavamo in Regione che è un festival dedicato alla letteratura per bambini che vede una formazione addirittura lo scorso anno ho visto non soltanto il festival dedicato ai bambini ma anche la formazione per gli insegnanti lo scorso anno avevamo 150 insegnanti Popoli in Festa che è una manifestazione fortemente osteggiata ad esempio da alcune personalità del centro-destra che mi hanno preceduto e che mi hanno fatto articolo in continuazione ma che in realtà ci ha portato alla ribalta nazionale ed internazionale perché dialogo 5 più 5 ci siamo entrati come capofila pensi che per la Francia c'è Marsiglia per l'Italia c'è Fermiano e Gradara in questo progetto e in più con il progetto diretto europeo che stiamo lavorando per 140.000 euro e appunto cercheremo di finanziare anche con questa PAX e l'ultimo festival nato un festival dedicato alla filosofia un festival che ci ha portato Davide Gaglianone che è praticamente un premio Davide Donatello del 2009 ha portato la band Rulli Frulli una band formata da 70 ragazzi enormo dotati e portatori di handicap che hanno suonato ultimamente da Papa Francesco hanno suonato il concerto del primo maggio quindi cultura e solidarietà e perturbazione che hanno suonato a Sanremo esatto quindi c'era teatro filosofia musica dove ognuno di loro ha portato un messaggio di passi ognuno di loro attraverso le loro arti chiaramente e quest'anno nel 2020 già la scuola grazie all'istituto comprensivo romante e al dirigente Grottola hanno diritto al progetto alcuni dei ragazzi praticamente quindi hanno diritto al progetto al laboratorio di Pax e sì sono 25 mila euro ok è vero però per fare cultura ci vogliono soldi noi abbiamo vissuto l'età noi sono dell'82 di un ministro che diceva che con la cultura non si mangia in realtà per poter far crescere un comune un paese dobbiamo pensare e trasformarlo dalla dicitura paese a città abbiamo una necessità importante non solo struttura ma anche cultura non possiamo pensare che la sagra dalla panina o dalla porchetta perché è locale debba bastare solo quella ci deve stare ma accanto a quella bisogna alzare il livello e alzare il livello si può fare attraverso chi? attraverso chi può venire magari da fuori come può essere stato Gaglianone come può essere praticamente i ragazzi della band i rulli frulli potevano essere oppure i perturbazioni persone oppure c'era Mary Zurnasi che arrivava direttamente all'Australia che ha scritto un libro con Wim Wenders dedicato alla pace appunto cioè dobbiamo pensare che dobbiamo far alzare il livello e se abbiamo speso 25 mila euro per poter far sì che si possa realizzare un festival di questa caratura nazionale internazionale dire la verità appunto è una prima partenza c'erano tante persone in realtà magari queste persone che hanno scritto l'SMS hanno partecipato poco perché se guardano soltanto l'ultimo concerto dei rulli frulli avevamo steso più di 300 sedie e non c'erano più i posti e c'era tutta la gente è anche vero che gli eventi e i festival insomma hanno bisogno comunque di crescere nel tempo di crescere questa era una prima edizione cioè non possiamo pensare di arrivare subito no Pop Sofia che è una delle manifestazioni più importanti della regione Marche similare come Target no è cresciuta piano piano è partita dalla zona di Civita Nuova Marche e poi è arrivata fino ad arrivare a Pesaro ed è un brand ormai a carattere internazionale ma è cresciuta piano piano questa l'idea è questa l'idea di Farnace stessa cosa faceva il passaggio di Farno come può essere il passaggio di Farno può essere Appennino fatto dal Comune di Peglio Sant'Angelo Mercatello Borgo Pace sono festival che permettono di far arrivare fa conto Simona che per questo festival Pax è arrivata la gente dalla Puglia per vedere la band Rulli Frulli quindi anche turismo assolutamente sì i Bad and Breakfast erano pieni vorrei chiedere al sindaco per quale motivo non sarà più fatta la festa della birra all'ex campo sportivo una festa che portava centinaia di ragazzi e non solo a Fermignano sarà possibile rifarla nei prossimi anni quindi sindaco ci sperano assolutamente io ho sempre dato disponibilità all'organizzatore io ho sempre detto all'organizzatore che ricordo da gennaio dello scorso anno gennaio 2019 siamo alla fine dell'anno già mi sembra passato interamente quest'anno ho fatto dei riunioni con l'organizzatore della festa della birra insieme alla presenza chiaramente anche di un mio assessore insieme alla presenza anche del marshalo dei carabinieri e dell'ufficio dedicato appunto alle manifestazioni e purtroppo il luogo fisico dove veniva fatta che è la festa della birra che è appunto il campo sportivo era stato richiesto la necessità di fare una terza uscita che era una possibilità di mettere in condizioni di sicurezza perché dopo Corinaldo si sono inaspirte ulteriormente la possibilità di fare manifestazioni e tante sagre manifestazioni sono scemate o sono state dismesse perché appunto i costi di organizzazione sono elevatissimi chiaramente avevamo detto la disponibilità dato la disponibilità all'organizzatore che poteva gestire tranquillamente il campo sportivo l'ex campo sportivo chiedo scusa aprendo la terza apertura che era necessaria ai vigili del fuoco io stesso ho messo in condizione di conoscere il dirigente dei vigili del fuoco che potesse aiutarlo ho dato la disponibilità di mettere a disposizione il mio ingegnere della sicurezza proprio per far sì che la manifestazione si potesse fare ho detto anche che qualora non si potesse fare lì davo la possibilità di farla nella zona industriale sono state fatte scelte diverse dall'organizzatore sono state fatte scelte a mio dispiacere con mio somma dispiacere perché chiaramente la festa della birra era stata fatta tanti anni fa ed è gloriosa per diversi anni purtroppo si è fermata mi auguro che dopo un anno a Vallefoglia dal mio amico Palmiro possa ritornare a Fermignano mi auguro che Loris ci possa ripensare e chiaramente anche poter ritornare nei propri luoghi dove era nata vorrei far vedere ai telespettatori un'altra foto sicuramente i suoi concittadini la conoscono ma magari per chi non è della sua comune no perché la giunta comunale di Fermignano si è vaccinata in gruppo proprio per sensibilizzare la popolazione prima città delle marche sindaco penso prima città d'Italia che ha fatto questa tipologia di attività nel senso che come scelta di amministratori a Fermignano per chi non lo sapesse è nato e vive Roberto Burioni che è uno dei più importanti virologi a livello italiano se non a livello internazionale che cerca di diffondere con la propria attività scientifica le notizie dedicate alle vaccinazioni e combattere soprattutto le varie fake news presenti insieme ad Alessandro che è il mio vice che è un medico io faccio il farmacista lui fa il medico quindi uno prescrive e uno dispensa diciamo sempre come battuta abbiamo deciso di lavorare praticamente sulle vaccinazioni abbiamo fatto appunto tutta la giunta alcuni componenti della maggioranza che erano presenti alla giunta di quella sera di martedì appunto si sono vaccinate aderendo alla campagna promozionale fatta da Azure dalla Revasta 1 dedicata alla vaccinazione contro l'influenza è una vaccinazione semplice perché non si è immuni né a 20 né a 30 né a 100 anni se non si fa appunto il siero il vaccino che si poteva utilizzare e abbiamo deciso appunto di aderire a questa campagna di sensibilizzazione tutti quanti insieme in maniera questa foto appunto abbiamo tutti quanti la seringa che ci siamo iniettati di vaccino appunto ci renderà immuni della prossima influenza o meno auguro comunque sia ed è un segnale per combattere ripeto le varie fake news ma soprattutto anche ieri sera ad esempio sui social sono stato attaccato dall'ex segretario della Lega di Urbani appunto perché questa attività di promozione della salute secondo lui non era corretta beh io dico che questa invece è una delle attività migliori che si potesse fare per promuovere l'utilizzo corretto delle vaccinazioni perché vaccinare vuol dire avere anche meno spesa medica vuol dire avere prevenzione gli ultimi messaggi perché siamo quasi in chiusura le segnalano una illuminazione inesistente nell'incrocio per Valle Nuova poi ancora non le sembra che il monte di Capaino sia stato un po' abbandonato ne abbiamo un altro che riguarda eccolo qua riferimento alle opere pubbliche se ci sono progetti per il vecchio campo sportivo Borgo Metauro ok rispondiamo brevemente brevemente allora per quanto riguarda Capaino in questo momento domani sera approveremo scusate in consiglio la creazione della nuova casa degli scout che si trova proprio in fondo al monte di Capaino si troverà che era il parco praticamente che era stato creato negli anni 90 fino agli anni 90 dedicato appunto all'attività di movimento liberjoking all'interno della città creeremo questa casa insieme agli scout poi faremo un piano di ripulitura e di riqualificazione del monte di Capaino avevamo già fatto un progetto con l'ufficio forestazione purtroppo è andato a vuoto perché non siamo stati finanziati ma ripartiremo appunto con gli scout che daranno nuova linfa a questa zona a questo territorio per quanto riguarda l'illuminazione all'incrocio con Valle Nuova all'incrocio Sagrata ha ragione ci impegneremo per poter far sì che entro il 2021 abbiamo messo lì un'illuminazione corretta perché è un punto veramente strategico ed è molto pericoloso c'è stato anche un incidente mortale anni fa ma in questo momento abbiamo investito sulla frazione di Calagostina e sulla zona artigianale per poter fare un quartiere due quartieri anzi perché ci siamo detti un quartiere l'anno il centro abbiamo rifatto Calagostina abbiamo fatto poi Villa Furlo e abbiamo fatto la zona artigianale per quanto riguarda invece l'ultima domanda non me la ricordo non la ricordo perché sono tanti messaggi che stanno ancora arrivando questo l'ha detto all'illuminazione per il campo sportivo all'ex campo sportivo esatto l'ex campo sportivo quello dobbiamo pensare con campo che sono 10.000 metri quadri in questo momento ho incontrato l'Ignano Buls che è un'associazione sportiva che ha dato una disponibilità stiamo cercando di lavorare per creare un progetto insieme ascoltando anche le loro esigenze perché loro avevano delle ottime proposte delle quali partire chiaramente dovremo trovare un progetto più organico perché 10.000 metri quadri di terreno sui quali investire bisognerà creare un progetto organico sarà un progetto sicuramente di sfida da qui al 2021 per poterlo creare e soprattutto magari realizzare nella seconda legislatura Sindaco si avvicina il Natale state pensando a qualche iniziativa a proposito? assolutamente sì stiamo lavorando da tre anni con un progetto che si chiama Natale da Vivere e in questo momento Arturo Romani che è l'assessore dedicato agli eventi sta finendo il carnet di manifestazioni e abbiamo addirittura una sorpresa insieme alla carnevalesca di Fano abbiamo creato un panettone alto quasi cinque metri insieme ai carristi? esatto abbiamo insieme ai carristi praticamente abbiamo fatto questo panettone perché abbiamo lanciato un festival che si chiama Festival del Panettone del Torrone dove abbiamo invitato ormai da tre anni abbiamo praticamente insieme a tutti i vari panifici o comunque sia pasticceri di tutto l'Interland portiamo praticamente insieme anche l'istituto alberghiero Santa Marta l'istituto alberghiero scusate Celli di Piobbico abbiamo fatto una collaborazione e facciamo vedere come si crea un panettone come soprattutto vendere i vari panettoni con questo festival che si farà appunto nel secondo weekend di dicembre Sindaco ci stanno arrivando tanti altri messaggi magari glieli leggerò in separata sede perché purtroppo dobbiamo chiudere fra pochissimo andrà in onda un videoclip di promozione della città di Fano con immagini suggestive dei luoghi più belli della città vedrete anche alcune coreografie curate da Sofia Pucci il progetto video invece è di Fabio Turriani vorrei ringraziare anche Cristiana Guerra in regia e Riccardo Sora logicamente dopo il videoclip ha entrato in onda anche il telegiornale di mezzasera Sindaco la ringrazio per essere stato nei nostri studi per quest'ora passata insieme perché come diciamo sempre questo è un modo anche per i cittadini per venire a conoscenza dei progetti dei lavori insomma in essere quindi grazie per essere stato Fano TV grazie a voi e grazie per avermi dato questa disponibilità e questa possibilità speriamo di riaverla nei nostri studi il prossimo anno continueremo sicuramente con il programma Primo Cittadino quindi grazie ancora e grazie a tutti voi per aver seguito il nostro programma buon proseguimento di serata Grazie a tutti